Il sindaco ambientalista raggiunto da un avviso di garanzia per inquinamento. È stata questa la brutta sorpresa trovata sotto l'albero da Renato Corinti, che però si difende e annuncia che chiederà di essere ascoltato presto dalla magistratura per poter esporre l'intenso e continuo lavoro fatto in questi tre anni e mezzo per recuperare situazioni di degrado degli ultimi 30-40 anni. È noto, ha affermato il primo cittadino, che moltissimi scarichi in passato sono stati convogliati o allacciati illegalmente e molto di più sono quelli che successivamente dagli anni 80 non sono stati allacciati e scaricano abusivamente in torrenti e nelle condutture per la raccolta delle acque bianche. C'è dunque, ha affermato a Corinti, un grande lavoro da fare. Questa amministrazione lo sta facendo con impegno e piena coscienza della difficile situazione ereditata. A Corinti in una nota ha fatto un lungo elenco delle opere avviate dalla sua amministrazione, ma la sua difesa non ha placato le polemiche del solito Pippo Trischitta che nei prossimi giorni chiederà ufficialmente le sue dimissioni. Io non chiedo le dimissioni perché chi riceve un avviso di garanzia deve dimettersi. Piano me non deve dimettersi neanche colui che viene inviato a giudizio, colui che viene condannato in primo rato se non sono fatti così irredanti di mafia o d'altro. Ma c'è sempre un secondo rato e poi la Cassazione. Io chiedo le dimissioni per coerenza perché lui ha sempre sostenuto anche nella vicenda di termini determinate cose, chi riceve una viceversa vanno nei principi di legalità e dunque questa amministrazione non può avere questi problemi di legalità. Siccome il problema ce l'ha il primo cittadino, lui si dimette e dà concretezza alle parole che ha sempre sostenuto. Se no faccia silenzio per sempre, sia lui che tutti i seguaci del suo movimento e tutti quelli che sono intervenuti in altre questioni. Mani farà una conferenza stampa sul punto delle dimissioni quindi le chiederà ufficialmente? Certo perché io dico che una persona deve essere coerente, non puoi dire certe cose per gli altri e poi non le fai per te. Fai molestando che io sono sempre, ripeto, per me è una persona colpevole dopo il tezzorato di giudizio perché abbiamo avuto ipotesi rilamerosa anche di persone assolte in trassazione o processi anche terminati in trassazione che poi si sono riaperti. Ma se tu sostieni una cosa per gli altri poi la devi fare prima di tutto per te. Non puoi andare a fare lo scaltro tutta l'Italia e poi quando capita a te parli di 30-40 anni fa. È la stessa cosa di Buzantra per Giampilieri.